Ben trovati da Madonna di Campiglio, ci troviamo presso l'hotel Bonapace. Siamo con Scaglia Fabrizio, che è il proprietario. Ben trovato Fabrizio. Piacere, salve. Allora Fabrizio, intanto fa un caldo terribile, devo dire che non è usuale per Madonna di Campiglio questo caldo, no? Sì, sì, sì. Però immagino, anche ho provato, che la sera effettivamente la temperatura cala e finalmente si può riconciliare con il sonno. Però anche se durante il giorno comunque i clienti riescono ad andare a fare le passeggiate, magari nel bosco, all'ombra, si sta comunque bene. Si sta bene, poi c'è anche la piscina, eventualmente si può approfittare anche di un tuffo in piscina per potersi rinfrescare. Ecco, dopo due anni di pandemia, dove ci sono state chiusure forzate, ovviamente, ma molti clienti magari hanno preferito non venire a quest'anno, come va la situazione? Ma no, direi che la situazione è migliorata. Si vedono, stanno tornando i clienti stranieri che per qualche anno erano mancati, appunto, dovuto alle chiusure. Qualche ciclista si vede, la clientela italiana, anzi, è aumentata rispetto al periodo pre-Covid. Insomma, sembra che le cose vadano bene. Ecco, per quanto riguarda agosto sarete sicuramente al top, non immagino? Sì, 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 sì. Da agosto siamo già completi. Sì, c'è qualche buchetto qua e là, però... Settembre, invece, è un mese dove c'è ancora un po' qualcosina da fare, no? Eh, sì, sì. Però è il mese migliore perché non fa caldo, diciamo, si può rinfrescare, non c'è anche l'affollamento di adesso. E pertanto vogliamo consigliare anche ai turisti di venire a soggiornare a Madonna di Campiglio nel periodo di settembre. Sì, 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 sì. Anche le giornate sono più stabili rispetto magari a quelle di agosto che magari qualche pioggiarella la fa. E per cui, sì, sì, vi consigliamo di venire e anche perché, sì, sul Brenta magari trovate meno gente e potete godere di più delle nostre bellezze. Esatto. Fino a quando siete aperti? A noi fino al 18, 18 settembre. Perfetto. Allora, vogliamo dare il sito internet per potervi contattare ed eventualmente poter effettuare una prenotazione? Sì, il nostro sito è www.talbuonapace.com Benissimo. Allora, ringraziamo Fabrizio per averci dedicato questi minuti. Vi invitiamo a Madonna di Campiglio per godere, diciamo, della bellezza del territorio e approfittare anche della frescura serale. Ne vale la pena. Buona giornata e buon'estate a tutti. Buon'estate, grazie, arrivederci.